Noi sono all'uvernata di Borgo San Dalmazzo, noi sono sempre a Daniello Do della Talvera e sempre a Céline Ricard, Céline Ricard, che è una delle cantanti della Talvera. Noi abbiamo già conosciuto all'estivata di Rodese, quando abbiamo intervistato Daniello e sempre a Cilverio Pessoa. Invece anche noi vogliamo concentrare sulla storia della Talvera, l'avete passato abbiamo parlato di un progetto, ma dove vogliamo conosciuto tutto come l'Enaissio, quello che l'Enaissio è come un'associazione culturale d'Arsercio e poi, dopo qualche anno, resta un gruppo musicale. Giusto, se vuole fare un po' di storia per chi in Italia con noi fa i 35 anni di vita della Talvera? D'accordo, la Talvera è un'associazione che è nascita nel 1979 qui a Dilutar, a costa di Toulouse. È un'associazione che è stata montata al principio per fare delle ricerche sulla cultura occitana. L'idea era di fare delle collettazioni per conoscere meglio la nostra cultura. A partire da quelle collettazioni abbiamo cominciato a montare un gruppo di musica e poi abbiamo fatto delle edizioni e abbiamo montato un servizio di documentazione e poi abbiamo fatto un po' di animazione un po' di tutto. e, piccolo a piccolo, l'associazione ha amenato il cammino dell'Albicese, in primiè, quindi nella regione dei Gaiac, dei Cordos, e poi un po' di tutto, in Occitano tutto. e poi abbiamo montato in Italia un po' di territori culturale, e con tutti i incontri che abbiamo fatto, abbiamo montato anche un po' di territori artistico, in incontriamo dei musici di un po' di tutto, d'abord in Occitania, come lo Fabulous Troubadour, e poi anche in altri paesi, come lo Brasile, in Toscana, sovien, quindi è una storia lunga. E, magari all'Incopio è un gruppo e un'associazione che si occupano di ricerca, ma che fa anche di creazione. Per noi, l'idea è di ballare quella cultura a tutti, quindi ci interessano alla musica tradizionale, ma anche abbiamo visto in un paio in cui la musica tradizionale non sufficiente per il pubblico dell'art, quindi ci siamo tutti a fare delle creazioni, tutto meno delle creazioni, delle creazioni per gli effetti nelle scuole, ma anche delle creazioni per l'attitudine, delle creazioni per gli adulti, delle creazioni per il popolo tutto entro. Grazie, allora ci hanno fatto un po' di storia, vi mando invece, quali sono i vostri progetti, a su cui si incamina a lavorare anche a tutti i miei, a tutti i anni. Nostri progetti? Parla o non si dice? Per il momento c'è un progetto che va a spiegare leo leo che viene inserito di acabar un disque che è sullele sulle l'aria che è un disque di creativo di Daniel che fa le parole e le musico mai che mai del gruppo La Talbero questo va a sortire qui al debito di Decembre appena sono entrati a lavorare per un libro di conti che ora velevo 500 pazzini che concerne tutti i conti che avevano recolito dinti Albizese, dinti Departament di Tar che suonano Albizese qui ha una gran varietà di conti che va a sortire anche al debito del mese di Decembre sono a acabar qui, sarà un disque di conti occità, del domenio occità poi c'è un troppo di cose per l'anno che viene preparando un altro recolto di canti perché abbiamo fatto un piccolo recolto di canti che si sono un avosicanto che è stato avutato non nemmeno abbiamo venduto forse abbiamo fatto un altro, mai bello abbiamo mai dei cani abbiamo le partizioni lavorano a disposizione perché abbiamo fatto un film di disposizione per l'U.A. al mondo che abbiamo fatto sul bel mestiere, sui orti sulla tradizione che abbiamo fatto che abbiamo fatto un piccolo recolto di canti che abbiamo fatto un piccolo recolto di canti e abbiamo fatto un'esposizione sul caso il caso tradizionale tutto il caso il caso di che abbiamo fatto un'ad закки di generale Tutto una messa i veri di Pessoa, aveva mai tessi, e abbiamo sorti due dischi qui sul Brasile, un dischi di colettazione, che abbiamo fatto qui in un certo tempo di Pernambuco, e abbiamo preparato a dei musicisti del Brasile, per fare una creazione, l'Atalbero, aveva un film di musicisti del Brasile. E poi abbiamo fatto una residenza con dei musicisti del Brasile, di Madagascar, per mesclarla la cultura occitana con un'altra lingua, una lingua malgata, per mesclarla la musica e le lingue. Allora abbiamo avuto l'occasione di incontrare tanti paesaggi differenti, ma noi siamo a Borgo San Dalmazzone, la Valada Ossitana, e Borgo San Dalmazzone è un po' particolare, perché la dancaire tra i Valada, la Valvermenagna, la Valgesse e la Valdesturo, e dall'altra caire la Cunni. Allora vi faccio una domanda, che non faccio ancora a tutti gli altri, la Talvero, che non sono a Borgo San Dalmazzone, voglio fare la Valada o voglio fare Cunni, per l'Italia? Qui non, qui siamo a Conostre, diciamo a tutti i miei musicisti, se potessi tutto prendere qui, siamo a Inso Nostre, a quelli che vanno qui del Piemone italiano, in Iralo, dove il mondo è parlo occitano, siamo a Conostre. Qui è per noi, è veramente interessante. E allora siamo entrando a montare un progetto con gli adulti d'Europa per fare una creazione per la Cunni di Canso, e vogliamo cercare di montare un progetto, quindi avete una idea che ci interessa, vogliamo montare un progetto con il nostro regione, quindi l'Albice, con il regione bretano e con il regione occitano di Aicis. Quindi c'è un po' che viene Aicis e a Conostre. Ben, merci. Allora vi mandarei per salutar la gente che nos écoute da Maisung, quelli che non venivano a noi a nos sentire da parte dell'hivernata, li salutao Bino Ciansung. Qui non ci sono tutti i musicisti, normalmente sono 5, 5, 5, gli altri sono qui, sono Sergio Saranice, che è sugo di guitarra e di basso, poi è Sergio Cabot, che fa le percussive, e è Fabrice Rugger, che fa di clarinetto e di saxone, e qui, sono qui per il momento, dunque, voi andate scontentate di Daniel e di Celino, che fa una canzone a cappellare, senza strument, che fa una piccola canzone, che fa su una musica di Daniel, e la parola su un poema di Luizio Pauli. E' una poeta di nostro ritivo, che è di Muravo Acosta d'Albi, che mora in 1942, e che fa un poema in Occita, e abbiamo studiato alcune, e qui è musica. E questo è una bresa irola? Non, non vogliamo dormire, ma è una bresa irola. La lune non sorti dell'escur, la lune non passiamo segure, e per il cammino l'escur, ne non ne noto, ne non ne noto, so che ha visto e cantarà, so che saputo e insegnarà, so che è mozù e portarà, dormis ne noto, dormis ne noto. A vista ball, a vista munt, volendo la brada alla fun, sau della ribera e rossenton, ne non ne noto, ne non ne noto, cammino su su un blanca ball, nostro esclare munt, da mon aval, e l'eula ben, pre del bustale, dormis ne noto, dormis ne noto. So che saputo, dirà sua odette, riscatto un tempo, il chunel d'ed, o guardarà, sin tu un cuore, ne non ne noto, ne non ne noto, se l'urlumont, for la osiscio, l'allenno, ne menario, ed insuntra, un salario, dormis ne noto, dormis ne noto. l'unno, l'ameone, do dormis, porto lì dint, un trevadis, la colombo del paradis, l'unno, ne noto, l'unno, l'unotto, un archetun, nel platibato, l'un traità fondi, spunturato, per l'ucca tante, spauriga, nostro ne noto, nostro ne noto. L'allunno, surti delle scure, l'allunno, passamo, seguit, e pel cammino, l'età zio, ne non ne noto, ne non ne noto, la 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 la, 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 dormis ne noto, dormis ne noto. Yuhu! Wow, merci!